Il gol di Natale vi ha messo la partita in discesa, poi avete solo dovuto gestire? Sì, sì, è questo. Tutto ha fatto il gol molto importante per la squadra e per lui. Dopo abbiamo l'occasione di gol, però non l'abbiamo fatto e dopo è importante che la squadra difenda molto bene. Pescara vi ha creato pochi problemi oggi? No, Pescara è una bella squadra, è sempre difficile di giocare contro loro a loro casa, però abbiamo fatto il lavoro e è molto importante per noi prendere tre punti qua. Potevate chiuderla prima la partita, l'avete tenuta in vita fino alla fine. Forse è questo il difetto di questo Odinese oggi? Sì, penso che è solo questo oggi che possiamo migliorare. Abbiamo bisogno di fare il secondo gol, così è molto più facile. Berkic, primo tempo tutto sommato tranquillo, nel secondo tempo hai dovuto sudare qualcosina? Sì, sì, era così. Secondo me abbiamo giocato molto bene in difesa, ma non sono tanto contento come abbiamo giocato in nostro possesso in parte di attacco. Ma abbiamo conquistato i punti, questo è molto importante. Abbiamo sofferto tanto questa partita, ma si valutano solo questi tre punti. Pescara ha protestato per un presunto calcio di rigore nel finale. Tu eri in zona, cosa è successo? Sì, 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 ero in zona, vedevo che non posso uscire. Sono stato fermato, mi fermavo e poi non so se c'era contatto tra Danilo e Scully, sì. Non so, penso che non c'era rigore perché io non ho toccato Scully 100%.